RABBITS! Ho deciso di proporvi una reinterpretation di un grande classico della canzone italiana questo è un brano di Milva che probabilmente ricorderete, l'abbiamo modificato alla luce degli ultimi accadimenti ed ora ve lo proponiamo cos'è cos'è che fa andare la finanza se l'evasione avanza sono quelli come te e c'è che c'è sempre c'è una multa se quella ricevuta adesso chiedo a te perché se ti fa un tietamento ti prende lo sgomento e dici solo ai me così così per uscire dall'impasse basta pagare le tasse problema più non c'è tu non pagavi senza me la finanza, la finanza ora una multa c'è per te la finanza che cos'è 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 da Catania a Bressanone di lagga di passione e io non so perché perciò perciò tu direi lo fanno tutti perché sono tempi brutti ma che ne prega me però però ci sta la fiamma gialla poi viene tutto a galla e sono due per te ora lo so forse ho trovato il verso e scopro sto sommerso che piace tanto a te tu non pagavi senza me la finanza, la finanza ora una multa c'è per te la finanza che cos'è tu non pagavi senza me la finanza, la finanza ora una multa c'è per te la finanza che cos'è la finanza che cos'è 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 che fa male qua